Con amore visionario ed arte popolare fece scoccare la scintilla del Teatro Sotto le Stelle contribuendo alla rinascita del centro storico. Sono le parole scritte sull'opera in ceramica realizzata dal maestro Nello Ferrigno a grato ricordo del professore Peppe Natella. Una targa in memoria del professore come tutti lo chiamavano, una targa a Largo Santa Maria dei Barbuti nel centro storico di Salerno dove per oltre 30 anni Peppe Natella ha celebrato il Teatro Sotto le Stelle. E' stata inaugurata questa mattina la presenza del vice sindaco di Salerno Eva Vossa e dell'assessore al commercio Dario Loffredo. Una targa per imprimere nella memoria della città il ricordo di una persona speciale che con la sua creatività e passione ha animato la vita culturale cittadina, un simbolo fortemente voluto dalla famiglia e sostenuto dall'amministrazione comunale di Salerno. Questo spazio è nato con Peppe perché ha voluto un po' recuperare e noi quando eravamo giovani lavoravamo molto con i ragazzi nel centro storico quindi lui era un appassionato di ristrutturare, già che era uno scenografo, di fare teatro e siamo partiti diciamo dalla parrocchia e siamo poi arrivati in questo bellissimo spazio che ovviamente tanti anni fa, 35 anni fa era deteriorato al massimo. Però con tanti sacrifici l'abbiamo sistemato e abbiamo fatto tanto teatro che era diciamo la cosa che a lui piaceva tantissimo. Una targa oggi qui insiste in memoria di Peppe Natella per non dimenticare ma soprattutto l'occasione per restituire alla città quanto è stato fatto in tutti questi anni e non poteva che essere la città di Salerno a dargli questo riconoscimento. Sì questo è vero, lui ha fatto tanto per il centro storico devo dire, noi abbiamo resistito nel centro storico quando la gente scappava dopo il terremoto ma siamo rimasti e abbiamo cercato di recuperare tutto quello che si poteva recuperare non abbandonando la nostra città. Mi sembrava doveroso, doveroso perché ha creato un movimento culturale, un movimento sociale e nel centro storico della città. Qui è stato protagonista, qui ha avuto una manifestazione bellissima e oggi è stata secondo me la giornata ad alta per tre motivi. In una giornata uggiosa ha fatto un miracolo, al momento della scoperta della targa c'è stato un tiepido sole ad abbracciare e ascoltare i nostri cuori, quelli della famiglia e quali tutti quanti noi ci stringiamo. E poi il giorno di San Giuseppe, come il nome di Peppe e soprattutto un'altra cosa bella, da papà per la festa del papà. Quindi Peppe, voglio dire, in cielo come un po' un papà di tutti noi, papà della cultura a Salerno. E dai suoi insegnamenti dobbiamo ricostruire, continuare a far sì che in questo spettacolo dei Barbuti ci fossero sempre delle manifestazioni ogni estate che lo possano ricordare. Piazza dei Barbuti, Largo Maria dei Barbuti, oggi con una targa che avvalora ancora di più l'importanza di questo spazio per la cultura e per la storia del centro antico della città dedicata al professore Natella. Assolutamente, questo è uno spazio bellissimo, voluto fortemente da Natella. È stato bellissimo venire dal comune, nel centro storico, fare questi viottoli. Credo che noi dovremmo ancora di più, perché ci sono tanti di noi che a volte non conoscono le bellezze del centro storico della città. e il pretesto di venire in estate a questa piazza che è palcoscenico di teatro sia un insegnamento e un approfondimento culturale di esperienza a tutti quanti noi.